Signor Sindaco, oggi si inaugura un nuovo spazio di Estra in un territorio storico anche per Estra, quindi strategico anche perché è vicino a Valdichiana, quindi ha una doppia valenza questa inaugurazione. Certamente l'apertura di questo store ci fa molto piacere, ci fa molto piacere perché è un servizio che arriva nel territorio, non arriva soltanto a Senalunghesi perché credo che l'obiettivo sia di servire e essere punto di riferimento di un'area più vasta, quindi ci fa piacere che Estra apra questo, tra l'altro anche un bel ambiente, in vista è facilmente raggiungibile. Il Comune Senalunga, come tutti gli altri comuni, anche se indirettamente è socio di questa partecipata, di questa società, per cui ci fa piacere che possa fare gli interessi in questo territorio, che possa essere un punto di riferimento, ma soprattutto vorrei sottolineare un aspetto che per me è importante e determinante, insomma il fatto di aver scelto Senalunga questo mio territorio, quindi mi inorgoglisce anche di più, perché evidentemente la posizione strategica di questo Comune, di questo nuovo store, è sicuramente stata valutata positivamente dalla società per arrivare fino a qua, quindi benvenga e tanti auguri per il lavoro che farete in futuro. Presidente, un nuovo store a servizio della comunità locale e non soltanto, visto il punto strategico che ricopre questo territorio. Per noi è un evento importante, ogni volta che si apre uno store, in questo caso con la collaborazione di una delle nostre migliori agenzie, è un fatto importante perché assecondiamo la nostra politica commerciale, che è una politica che deve essere sempre più di prossimità e di vicinato. Estra può svolgere una funzione sociale importante, la svolge se è vicina al territorio e siamo stati il primo operatore nazionale a riaprire o ad aprire gli store dove incontrare la clientela, chiarire alcune dinamiche relative alla bolletta. Sono stati fondamentali gli store, soprattutto in questa fase estremamente critica, che ci ha visto sopportare anche noi insieme a famiglie imprese la crisi energetica. E quindi Estra, aprendo questi store, compie un gesto di disponibilità, di trasparenza, di incontro con la clientela che per noi devono essere cittadini. C'è molta competitività e si va sempre più verso il libero mercato, però l'elemento distintivo di aziende come Estra devono essere i valori che esprime e la territorialità sarà al centro di una nuova politica commerciale che attiveremo in questo nuovo corso dell'azienda. Una multicanalità di comunicazione, dalle forme più tecnologicamente avanzate a quella più tradizionale come è riveste lo store territoriale, che comunque manifesta proprio la centralità e un'impostazione anche filosofica di mission dell'azienda stessa, come diceva lei. Sì, può essere lo store anche un punto di riferimento territoriale per promuovere altri tipi di servizi o altri commodity che noi siamo in grado di offrire a un territorio. In forte collaborazione con i nostri soci indiretti, che sono le amministrazioni comunali, intendiamo acquisire anche un rapporto pervasivo, totalizzante, con la pubblica amministrazione e offrire anche delle soluzioni, non solo ai bisogni amministrativi, ma anche alla cittadinanza. Immagino la videosorveglianza, lo smart building, l'efficienza energetica. Siamo in grado anche di promuovere le comunità energetiche. Perché confidiamo che anche i nostri soci indiretti vogliano accogliere ogni tipo di proposta di Estra che si qualifica sempre di più come city partner per le pubbliche amministrazioni. Quindi una consulenza anche negli uffici che viene proprio orientata al risparmio energetico, all'efficientamento energetico. È una politica portata avanti da Estra? Sicuramente è importante. Il primo risparmio sulla bolletta è la riduzione dei consumi e promuovere buone pratiche, ma anche promuovere laddove è possibile, dove se lo possono permettere purtroppo anche una maggiore efficienza dei livelli impiantistici delle nostre abitazioni e delle nostre aziende. Mi auguro che questo store possa servire a riprodurre quella fluidità del rapporto che un po' si è persa nella fase critica della crisi energetica e quindi rilanciare un'azienda come questa che devono sentire i cittadini come un patrimonio proprio pubblico.